La sala di proiezione della Incom Inseparabili tontodonati e maestrelli Tavellin rivive lo scampato pericolo Anche dirigenti e arbitri come Valentini, Antonacci e Gemini apprezzano gli insegnamenti di questa documentazione Ecco una svista arbitrale Su uscita di risorti il tiro di Bacci è stato deviato in angolo da Andreoli Ma l'arbitro non se n'è accorto E il modo ancora m'offende, dice Gualtieri Lo schermo è il grande processo delle partite Pubblico ministero Tavellin Ma avrebbe bisogno anche lui dell'avvocato difensore Fallo di Antonazzi Sembrò rigore, non era Andreoli dato ad Antonazzi dell'equità dell'arbitro